Quello della fermata 13 Pastena-Giovio-Gliara è solo l'ultimo episodio di un problema che si trascina da tempo. L'autista aggredita al capolinea bus della zona orientale di Salerno ha scatenato la rabbia dei sindacati che chiedono alle istituzioni di intervenire, invocando una riunione in prefettura per adottare tutte le contromisure necessarie finalizzate alla tutela della sicurezza degli autisti. Nel giro di tre giorni, da sabato a oggi, tre colleghi sono stati aggrediti. L'ultimo, ma non per importanza, è quello della collega ieri mattina sulla linea 13, la collega Valentina Fontana. Gli davano fastidio i rumori, davano fastidio non so forse alla presenza addirittura dello stesso autobus in zona, ma si è avventato in maniera sconsiderata nei confronti della nostra collega, dapprima minacciandola verbalmente. Successivamente ha tentato addirittura di spegnere lui l'autobus prendendo a botte lo stesso cruscotto e nel finale, quando la collega ha tentato di fermarlo, l'ha aggredita fisicamente, spingendola con forza contro il sediolino e contro il vetro dell'autobus e addirittura è arrivato faccia a faccia con la collega. Parrebbe addirittura avendole dato una testata. Sono atti gravissimi. È inaccettabile che il personale deve andare al lavoro avendo paura di lavorare, ma che la stessa utenza deve viaggiare con tranquillità, deve poter prendere i mezzi di trasporto sapendo che serva solamente per portare da un posto all'altro. e non viaggiare con la paura che possa succedere qualcosa sugli stessi. La donna aggredita stamane è andata dai carabinieri di Salerno per presentare denuncia. Intanto l'azienda è intenzionata a costituirsi parte civile.